Può un mondo vivere senza un Superman che lo salvi? E può Superman vivere senza salvare il mondo? Questo è soltanto una delle dodici fatiche che Superman, come moderno Ercole, dovrà affrontare nell'opera che più di tutti lo contraddistingue, opera All Star Superman, che in quasi cento anni di esistenza dell'Azzurrone si è ricavata un posto di rilievo, considerata da molti come il più grande fumetto che Superman abbia mai visto. Spaccia droga, spaccia fumetti, spaccia storie, spaccia blues, vita storta, futuro spezzato, fatti un tiro e metti su, questa merda è roba buona, leggitela pure tu, te lo dice lo spacciatore, lo spacciatore di fumetti, Carlo Procaccini, the best. Questo video sarà senza spoiler, perché parleremo questa sera in live, trovate il link in descrizione, alle 21.30 insieme a degli ospiti eccezionali, proprio per analizzare ogni singola parte di questa magnifica opera. Ma adesso noi andremo un po' a parlare, vi dirò la mia, qual è la mia visione, così stasera lascerò la parola più agli ospiti. Questo fumetto è iconico. Perché è iconico? Perché ogni singola parte di questa opera, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista narrativo, va a tirar fuori tutti quelli che sono i componenti più immediate di Super, quelle che l'hanno reso grande e quelle che possono finirsi assolutamente classiche. Già dal punto di vista grafico, Grant Morrison chiede a Frank Whiteley di darci una visione assolutamente classica, con questi mutandoni molto larghi, la cintura d'oro, senza orpelli, senza tutte quelle finezze artistiche inutili che sono state aggiunte nel corso degli anni e che vediamo trasposte anche in diverse pellicole cinematografiche. L'essenza stessa di Superman, quel mantellino corto quasi all'Elvis Presley, alla Capitan Marvel, proprio figlio della Golden Age. E in ogni singola parte di questa storia, in ogni capitolo, noi andiamo a vedere degli aspetti che fanno parte del classicismo di Superman. Ad esempio, nella seconda storia, fatta dalla prospettiva di Lois Lane, e anche nella terza, sempre insieme a Lois, dove noi vediamo un semplice appuntamento tra i due. Sembra uscito veramente da una di quelle testate dedicate a Lois Lane, piene di situazioni romantiche, ai limiti dell'impossibile. Oppure il terzo e il quarto capitolo, che è una classica storia non di Superman, ma quanto proprio del Jimmy Olsen, Pulse of Superman. Cioè quella testata che Kirby rivitalizzò quando andò la DC Comics, dove il focus narrativo è proprio intorno a Jimmy Olsen. E questa semplicità della narrazione, ma come abbiamo visto anche in altri capitoli, è forse il punto forte di questa storia. Semplicità della narrazione, che si accompagna ovviamente a una grandissima profondità a livello narrativo. Questo miscuio tra Silver Age riletta con un gusto moderno proprio e estremamente profondo. Storie iconiche come quella del mondo bizzarro, questo mondo che il giorno di Natale, quindi nell'ora più buglia della Terra, quando il sole ha il suo picco più basso e più lontano al nostro pianeta, invade la nostra realtà. E il mondo quindi si capovolge. Noi sappiamo che Grant Morrison ha un'affezione particolare verso il Natale, ha scritto diverse storie dedicate a questo periodo dell'anno. E non è un caso a livello simbolico che lui scelga proprio il Natale per creare questo mondo distorto e buio, dove però vede la luce attraverso un suo essere. Questo è un altro punto focale della poetica di Grant Morrison, il fatto che noi siamo un prodotto del nostro mondo. Prodotto del nostro mondo che ci genera proprio per poterlo contemplare, per poter aiutare l'esistenza stessa a progredire. E Zibarro è proprio questo, Zibarro è la visione dell'oltre, è quell'uomo buono che può nascere in un contesto totalmente disastrato e trova la sua vera chiave dell'esistenza proprio nel dover contemplare questo mondo. Perché cosa siamo noi uomini se non creature partorite dall'universo stesso per poter autocontemplarlo, autocontemplare l'esistenza in quanto noi frutto di essa? Questa poetica, che io vi ho fatto l'esempio della storia di Gata Zibarro, completa in ogni sua singola parte di questa narrazione. Come ad esempio nella storia prima, il Vangelo secondo Luthor, il Vangelo che proprio va a scavare dentro la psiche di Lex Luthor, uno dei capitoli migliori che potete trovare in questa storia, raccontato per presa diretta da un Lex Luthor che dimostra costantemente di quanto la sua grandissima superiorità, a differenza di un Superman, a differenza di un Zibarro, non viene mai messa a servizio degli altri. Ma lui sfoga tutta la sua frustrazione nei confronti di Superman. Proprio perché Superman, nella sua visione, è un qualcosa che lo schiaccia, che gli impedisce di essere realmente se stesso. Ma in realtà è lui, con il suo ego ipertrofico, che non può avere il riconoscimento che secondo lui gli spetta in quanto uomo superiore agli altri, allora si vendica con quello che secondo lui gli sta scalzando. Questa serie in live vedremo tutte queste cose, ragazzi, nel dettaglio assolutamente. La grandezza di quest'opera, come vi ho detto, è nell'iconocità. L'iconicità di Superman è qualcosa che travalica lo spazio e il tempo. Anche la scelta dei colori non è casuale. Rosso e blu, un accostamento di colori che abbiamo visto spessissimo in Gesù Cristo. proprio perché il blu, il segno del celeste, dell'aspirazione verso l'alto, mentre il simbolo del rosso è simbolo d'umanità, del sanguigno, ma è anche simbolo di regalità. Quindi questa regalità, uomo, che diventa re degli uomini, senza però imporre la sua volontà e che aspira verso l'alto. E questo concetto importantissimo che Morrison aveva già utilizzato nella sua Justice League, noi lo vediamo nella storia dove arrivano gli scienziati criptoniani sulla Terra, nel periodo in cui Superman è stato assente per andare nel mondo bizzarro. E questi scienziati criptoniani che modificano la Terra. La Terra è il loro parco giochi. Gli osseri umani sono la stregua di delle scimmie per noi. E quindi loro, come noi umani, manipoliamo indiscriminatamente il pianeta, loro lo fanno lo stesso nei nostri confronti. Ma questo istilla in Superman un dubbio. Un dubbio che Grant Morrison aveva già utilizzato, come vi ho detto, nella primo arco narrativo e la sua Justice League, quando i marziani bianchi, sotto mentite spoglie, pongono alla Justice League un dubbio veramente importante e che servirà a spiegare queste storie. Cioè, voi fate abbastanza per l'uomo? Ok? Voi fermate i criminali, sconfiggete robot malefici, ma in realtà voi curate le problematiche di questo pianeta. Ricordo, ad esempio, i marziani bianchi riportare l'acqua nel deserto del Zara, facendolo rinverdire. Ecco, Superman si è sempre posto, e anche nella visione di Morrison, in maniera corretta, come io sì sono una persona che viene da una cultura molto progredita in confronto a quella degli umani, ma non posso imporre il mio volere e la mia mentalità e la mia morale agli esseri umani, io devo lasciarli progredire. Ma, in questo caso, Morrison non si limita a dare questa risposta, perché va nel profondo. Infatto, gli scienziati kriptoneani abbiano posto a Superman questo dilemma filosofico, che è solo uno dei dilemmi filosofici che vengono posti a Superman in tutta la narrazione, dilemmi filosofici che sono le dodici fatiche, oltre a farglieli risolvere, da un altro punto di vista, stimolano Superman. Perché quello che non vi ho detto è che Superman, in questo momento, si trova nella sua ora più buia. Si trova al punto di morte. Lui è stato infettato dall'ex Luthor, tramite un'intossicazione da sole, quindi diciamo un super tumore che gli è avvenuto, che lo sta facendo uccidere. E lui sa, visto i continui giochi indietro avanti nel tempo, che dovrà, ovviamente, perire, ma nel farlo dovrà risolvere queste Hercule 12 fatiche. E una è proprio questa. E un'altra, molto importante, è quella di creare la vita. Tutte queste domande, proprio nel pieno stile Morrison, gli vengono poste all'inizio, quando noi ancora non abbiamo la coscienza di quello che sarà. Mentre la narrazione, come vi ho detto, prosegue in maniera tutta distaccata, quasi Silver Age, incentrandosi su un personaggio piuttosto che un altro. Ma, in realtà, tutto quello che noi vediamo attraverso la storia, la composizione di questo meraviglioso affresco, Ercole, le dodici fatiche, i dodici apostoli, il ciclo solare, è quello che è il percorso finale che deve compiere Superman. Superman, come un moderno sole, cioè culto di Mitra, come vi ho detto, ripeto, culto di Gesù, quella massima ispirazione dell'uomo a cui tutti vogliamo e dobbiamo tendere. Non tanto perché così questa persona ci protegge, ma perché noi stessi dobbiamo incarnare quella forza e poter volare altro, altro concetto amato da Morrison e che ha espresso in tantissime sue opere. E il sole è un punto focale, proprio come anche la circolarità di questo moto solare. Chi ha letto il fumetto sa benissimo come finisce il finale, chi ha letto Justice League One Million sa benissimo che il concetto che esprime Morrison nel 2007 con All-Star Superman l'aveva già espresso nel 1997 con All-Star Superman, dove i personaggi si incastrano generando proprio questo legame di continuity assoluta e soprattutto infinita che Grant Morrison vuole dare ai suoi personaggi. Ricordatevi tutti come finisce Superman Beyond, con una lapide, la lapide di Superman, l'ennesima volta che Morrison fa affrontare a Superman una sua morte. E che gli risponde Superman su quella lapide? Cosa ci scrive quei moipitaffi? To be continued. Questo è il senso ultimo di quest'opera. Molto interessante poi anche vedere i parallelismi con altre opere, come quelle ad esempio di Alan Moore. Tre storie scrisse Alan Moore per Superman, ma una è un time-up con Swamping, mentre le altre di cui parleremo a breve sul canale sono una morte di Superman e l'altra è l'uomo che ha tutto, cioè un'allucinazione in cui Superman rivive su Krypton. Beh, per Morrison, nonostante le litigate storiche con Alan Moore e le provocazioni, c'è spazio per andare a lavorare anche lì. Infatti, l'ultimo capitolo che inizia con il dialogo tra lui e Jor-El e su Superman in un punto di morte è stato allucinatorio che vive su Krypton e parla con il padre quanto è simile la visione di Alan Moore su tutto ciò. Ma nella seconda storia, cioè la fine del Superman della Silver Age, cioè l'inizio, il passaggio in cui Alan Moore, lo scrittore che chiuse a tutti gli effetti la Silver Age per aprirci, ha la Bronze Age e che con la storia di Superman va a chiudere i battenti proprio su quello che è stato il primo di tutti, bene, Grant Morrison con host al Superman fa il percorso inverso. Va a recuperare gli stilemmi della Silver Age per far vivere a Superman un'avventura in stile Silver Age. Non un canto del cigno, ma una promessa di continuità del futuro. E infatti, noi non vedremo mai Superman in tutta questa narrazione risolvere i problemi come glieli fa risolvere Alan Moore, perché quello è il passato. Il futuro per Grant Morrison è ancora più nel passato, in quella Silver Age che Alan Moore aveva chiuso facendo compiere a Superman l'atto che non avrebbe mai potuto compiere, cioè la morte, uccidere un suo nemico. Bene, questo qui invece è tutto diverso, perché Superman in questa storia non ucciderà mai un nemico, rieducherà, insegnerà ai suoi nemici, gli darà una seconda possibilità. E questo se è quello che rende grande Superman e lo lega, lo spirito puro del passato che Morrison tanto ama, fino a quel combattimento finale con ovviamente un Lex Luthor come vi ho già detto in forma sbagliante che ha tirato di fronte a noi fuori tutto quello che è la sua anima più nera ma al contempo più pura. Vivere in quella scena finale con i poteri di Superman, ampliarli sempre di più e contemporaneamente ampliare la sua comprensione, perché è questo il potere di Superman, è questa visione grandiosa che lui ha, non è nel potere in quanto tale. E in quel momento Lex Luthor capire veramente chi è Superman e andare contro tutto quello che ci aveva detto prima nel Vangelo secondo Luthor e iniziare a vivere e a vedere un mondo diverso. Ovviamente lì purtroppo la fine è annunciata e siamo, come vi ho detto, al tassello finale. Molto interessante in questa storia vedere come l'azzurrone si pone nei confronti degli uomini. È sempre paterno, ma non un paterno di quelli che ti tiene bloccata la crescita perché ti tiene sotto controllo. È quel padre che ti aiuta a rialzarti e ti indica la strada, ti rimette sulla bicicletta e ti insegna a pedalare. Eppure anche la sua profonda umanità che Grant Morrison inserisce in ogni momento, anche nella sua ora più buia, Superman si prende cura di noi, va ad abbracciare una ragazzina che si sta per suicidare e quella, come tutti immaginate e sapete, è la scena più iconica di questo fumetto perché è l'emblema di tutto quello che è il simbolo di Superman. Superman come ci dimostra sempre Grant Morrison in questa storia che se non esistesse, giusto per rispondere alla domanda che vi ho fatto inizio video, noi uomini lo creeremmo e è questo quello che è stata la storia dell'uomo per secoli nei secoli, creare i nostri Superman, creare i nostri dèi, creare la nostra mitologia narrativa, i nostri eroi, ma non per fingere che questi eroi possano salvarci la vita, in realtà lo facciamo solo perché noi vogliamo sotto sotto diventare come loro, per questo non fatevi fregare dalla retorica cattolica quando dicono beh Gesù ce n'è uno è figlio di Dio e tutti noi non siamo nessuno perché Gesù stesso diceva che tutti noi siamo figli di Dio e tutti noi possiamo avere il potenziale di volare come lui o come Superman. Ciao ragazzi, ci vediamo stasera 21.30 sul canale di Carlo Procaccini, trovate la live linkato in descrizione. Bella! Ciao ragazzi, Ciao ragazzi,